Attenzione, giocatori! È il momento del prossimo gioco. Oh mio Dio! Non ci credo! Siete pregati di entrare immediatamente nella sala dei giochi. Cavolo! Oh mio Dio! E ora che il gioco abbia inizio. Questo gioco è crudele, feroce e spietato. Merda, sul serio? È una sfida che va affrontata giocando di strategia. Anche se siamo grandi amici, non ho problemi a ingannarti. Non puoi fidarti di nessuno qui dentro. Scegli due giocatori da eliminare. Sveglia, siamo Squid Game. Pensa ad affondare quelle navi e basta. Siamo una bella squadra. E che mi metti di buon umore. Ognuno di noi inizia a mostrarsi per quello che è davvero. In ballo ci sono 4 milioni e 560 mila dollari. Sento il profumo del denaro. Sei stato eliminato. Sento il profumo del denaro.